Ora il ciclismo con il trofeo Matteotti, la classica internazionale in calendario domenica 19 settembre a Pescara. La corsa verrà presentata ufficialmente giovedì prossimo a 9 settembre a Palazzo di Città con inizio alle 17.30. Quella di quest'anno sarà la 74esima edizione, come dire, una delle corse tra le più longeve d'Italia. Inoltre la collocazione di data una settimana dopo il campionato europeo del 12 settembre a Trento e al ridosso del Mondiale in Belgio il 26 settembre darà importanti indicazioni sullo stato di forma della formazione azzurra che disputerà la prova irridata. Ad oggi le squadre iscritte sono 21 tra formazioni Pro Tour, Professional, Continental e la Nazionale Italiana.